Quanto è importante preparare queste ragazze che giocano in porta? È molto, il portiere è uno di quei ruoli più delicati e devono essere molto preparati sia da un punto di vista fisico, tecnico e anche tattico perché comunque è un ruolo dove spesso gli si dà, non dico meno importanza anche da un punto di vista tattico però deve essere importante anche quello, curare molto l'aspetto della posizione in porta, sugli spostamenti, sugli diagonali tutte cose molto importanti ma sostanzialmente il lavoro è piuttosto semplice, bisogna lavorare sulla tecnica quando un portiere è tecnicamente pronto, sa come smuoversi in porta, come stare in porta gli errori si riducono tanto, non bisogna stare ad inventarsi grosse cose certo bisogna lavorare sul minimo dettaglio perché tante volte si trascurano un po' come si muovono le braccia come si gira alla punta del piede, tante cose, bisogna lavorare sul dettaglio per andare a migliorarsi però solo questo Tra l'altro il portiere come sempre deve guidare la difesa Sì, sì, certo, quello è uno dei aspetti principali perché comunque un portiere deve essere caratterialmente forte, deve essere un leader positivo anche all'interno di una squadra e questo noi abbiamo due portieri un po' diversi da questo punto di vista qua una ragazzina più giovane che fa un pochino più fatica a imporsi su questo l'altra parla forse anche troppo quindi sono state da gestire un po' in maniera differente però stanno crescendo tutte e due anche sotto questo punto di vista qua La partita di domenica contro chi giocati? La domenica contro il Ducato Spoleto Una partita che non sarà così semplice come in tanti magari si possono aspettare bisogna essere decisi, belli, cattivi, entrare in campo e mangiare l'avversario sportivamente parlando portare a casa il risultato e poi dopo si vede Anche perché ogni partita vale doppio visto i cinque concorrenti alla vittoria finale Siamo un bel gruppetto di testa che si è staccato un pochino dalle altre quindi sicuramente si gira tanto su tutte le partite è importante non perdere punti e poi dopo quando arrivano gli scontri diretti bisogna far male ma noi non ci sa niente da perdere con nessuno non ci sa da invidiare niente quindi non c'è paura di nessuno dai